Il Dottor Salvatore Stanziali, Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, altro importante relatore oggi al Reinventing Finance. Dottor Stanziali, quali sono le iniziative dell'Unione Europea in tema di fatturazione elettronica? Quest'anno l'Unione Europea ha approvato una direttiva, la 55 del 2014, che riguarda la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, quindi si applicherà a tutti gli appalti pubblici dell'Unione Europea. Prevede lo sviluppo di una norma, di un modello semantico per la fattura europea e entrerà in vigore a fine del 2018. Non prevede l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni europee, ma un obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare la fattura elettronica o predisposta secondo il formato europeo, il cui sviluppo è già in corso in ambito del Comitato Europeo di Normalizzazione. Quello che voglio sottolineare è che chi ha già investito sulla fattura PA non ha sprecato i suoi soldi, perché la fattura PA è ampiamente compatibile con l'embrione di norma europea, che già si sta delineando in seno al CEN e quindi con piccoli aggiustamenti potrà continuare a utilizzare il sistema che ha sviluppato anche dopo il 2018.